Il locale la pecora nera alza la voce sulla chiusura imposta dalla polizia dopo la rissa di Ferragosto, 15 giorni senza lavorare per aver fatto rispettare le regole, le parole dei titolari. Terzo atto di vandalismo alle sculture di Lucio e Peppe Pirone che si trovano su Corso Cento Scelle, questa volta è stata presa di mira dai soliti idioti la mano che tiene strette alcune matite colorate. E' boom di tamponi rapidi nelle farmacie cittadine, in tanti coloro che non sono vaccinati che effettuano il test per avere il Green Pass di 48 ore, il costo è sceso a 15 euro. Una situazione di degrado totale tra topi che scorrazzano tra i giochi dei bambini e incuria è quella che si registra a Campo dell'Oro tra via Emilia Romagna e via Sardegna. Al via la nuova avventura della Fuzz all'Academy Civitavecchia, i 22 giocatori hanno iniziato la preparazione all'Ivan Lottatori di Aurelia, quasi certo il ripescaggio in Serie C1. Buonasera dal nostro telegiornale, per la terza volta sono state vandalizzate le sculture di Lucio e Peppe Pirone che si trovano a Corso Cento Scelle di fronte al Teatro Traiano, stavolta è stata presa di mira la mano che tiene stretta alcune matite colorate, spuntano i testimoni, si parla di un litigio di coppia con un ragazzo che avrebbe divelto il matitone rosso, ma si attendono i riscontri delle telecamere di sorveglianza, il servizio. Terzo atto di vandalismo alle sculture di Lucio e Peppe Pirone che si trovano su Corso Cento Scelle di fronte al Teatro Traiano, questa volta è stata presa di mira dai soliti idioti quella di Lucio, la mano che tiene strette alcune matite colorate. Quella rossa è stata divelta dal resto del gruppo e stamattina è stata trovata a terra, come detto si tratta del terzo atto di vandalismo per l'installazione Mirabilia Urbana, nel 2018, poche ore dopo l'inaugurazione, era stata staccata a loca dall'uogo blu, nell'opera Lasciatemi Pensare, mentre un'altra volta era toccato al colore giallo, sempre dell'opera di Lucio Pirone. Anche in questo caso si andranno a visionare le immagini delle telecamere di video sorveglianza, le stesse che nel 2018 avevano portato al riconoscimento dell'autore del gesto. Non ho coraggio a chiamare gli artisti, spiega il curatore di Mirabilia Urbana, Fabio Cozzi, perché mi vergogno di quello che è avvenuto, incredibilmente per la terza volta. Loro hanno opere in altre città e queste cose non succedono. L'altra volta non mi sono costituito parte civile all'interno del processo contro il 25enne, autore dell'atto vandalico, accusato di danneggiamento, ma stavolta, qualora sarà identificato, lo farò. È ora di finirla. Intanto novità al riguardo emergono dalla voce dei commercianti della zona, che in pieno giorno, nel pomeriggio di ieri, avrebbero assistito alla scena. Al colmine di una lite di coppia, un ragazzo avrebbe staccato il matitone, forse per suonarlo in testa alla fidanzata. Per ora si tratta di testimonianze, non si sa fino a che punto attendibili, ma come detto, a parlare tra poco saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza a 360 gradi, che si trovano sul palazzo della Guardia di Finanza. Gli occhi elettronici avrebbero infatti ripreso la scena e saranno di grande aiuto nelle indagini. Intanto da Palazzo del Pincio spiegano che gli uffici stanno procedendo a stimare il danno ed hanno avviato le pratiche per il sinistro. Vi sarebbero testimoni, spiegano dal Comune, comunque si provvederà all'attenta visione di quanto registrato dalle telecamere di videosorveglianza. L'amministrazione comunale, nel condannare l'ennesimo episodio increscioso che si deve registrare ai danni del patrimonio pubblico, assicura che farà tutto quanto è possibile per individuare i responsabili, oltre che ripristinare l'installazione. Città migliori passano da amministrazioni più efficienti, su questo non ci piove, ma sicuramente città migliori passano anche da cittadini più civili. È il pensiero del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle David Porrello in merito all'atto vandalico sulle opere del Miriabiglia Urbana. Secondo Porrello, l'amministrazione locale può sicuramente fare di più e meglio, ma è anche vero che i tanti atti di vandalismo a cui assistiamo sono vere e proprie coltellate al cuore di Civitavecchia. A leggere sui giornali locali dell'ennesimo atto vandalico alle opere d'arte Miriabiglia Urbana, afferma il Grillino, ci fa capire ancora una volta la grande importanza dell'educazione civica nelle scuole e negli animi dei cittadini. I città migliori passano anche e soprattutto da cittadini migliori, auspico un futuro in cui questi eventi siano rare eccezionalità e non triste routine. Ancora cronaca ai proprietari del locale. Il Pecola Nera, chiuso per 15 giorni dalla polizia in seguita alla lista avvenuta a ferragosto, non ci stanno e danno la propria versione dei fatti. Secondo i gestori del pub Bistro si tratta di una decisione ingiusta perché tutti i protocolli di sicurezza erano stati rispettati. Non solo, si punta anche alla richiesta di risarcimento dei danni per l'ingente mancato incasso alla società a cui il locale si era affidato per garantire la sicurezza e il servizio. Già vedersi chiudere il locale per ben 15 giorni e nel periodo di maggiore lavoro dell'anno, nonostante tutti i tentativi di far rispettare le regole, è stato un colpo durissimo e difficile da accettare, ma di venire anche additati come mezzi criminali dall'opinione pubblica, proprio non ci stiamo. A parlare sono i titolari del Pecola Nera che hanno voluto raccontare la propria versione dei fatti dopo la chiusura da parte della polizia del pub Bistro, situato in via Duca d'Aosta, che la notte di ferragosto è rimasto coinvolto in due risse che però, ed è il primo punto che i gestori tengono a chiarire, sono avvenute all'esterno. Anzi, il motivo scatenante è stato proprio il rifiuto di far entrare un cliente che pretendeva di passare senza mascherina. Nel rimarcare i tanti soldi spesi per curare la sicurezza ai tempi del Covid, anche stipulando un regolare contratto di servizi con una società di investigazioni e sicurezza, i titolari del Pecola Nera raccontano quanto avvenuto. La sera del 15 agosto, poco dopo mezzanotte, spiegano, si è presentato all'ingresso un ragazzo visibilmente alterato e non nuovo ad espluare del genere, che, come detto, voleva a tutti i costi entrare nel locale per ordinare da bere, senza però indossare la mascherina. Il buttafuori non l'ha giustamente fatto passare, il giovane lo ha spinto, insultato e li ha pure sputato addosso. E a quel punto, certo, l'addetto alla sicurezza, si è macchiato di una reazione spropositata e ingiustificata, colpendolo più volte e sbagliando a sua volta. Da lì, prosegue il racconto, sarebbe scoppiata la miccia che ha portato, un'ora dopo, alla spedizione punitiva degli amici del giovane, nel frattempo recatosi all'ospedale a farsi medicare le ferite, i quali sono tornati verso la Pecola Nera a cercare il buttafuori per fargliela evidentemente pagare. E ne è nata una nuova colluttazione con altri addetti alla sicurezza, che, sempre fuori del locale, cercavano di evitare che i vendicatori raggiungessero il loro collega. Quando la polizia è intervenuta, gli animi si erano ormai placati, molti dei protagonisti se l'erano filata, e alla fine, di fatto, sono stati identificati solo gli addetti alla sicurezza impegnati nel locale. Comprensibili, quindi, lo stupore e l'amarezza, proseguono i titolari del Pecola Nera, quando, il 19 agosto, ci siamo visti notificare il provvedimento di sospensione con effetto immediato della lucenza per 15 giorni, quelli su cui contavamo per tirare su un po' i bilanci in rosso a causa della pandemia. Una stangata, ritenuta ingiusta e ingenerosa, e di cui adesso chiederemo conto alla Società di Investigazione e Sicurezza. Ma i titolari sono rimasti ancora più amareggiati delle tante cose sentite e lette sul loro conto, a cominciare dalle accuse di somministrazione incontrollata di alcolici, laddove il ragazzo che ha innescato tutto il parapiglia voleva proprio entrare a bere ed è stato tenuto fuori. Oltre il danno, la beffa, concludono. Chi ripagherà allora questi danni morali e d'immagine? Nella serata di ieri, gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Civitavecchia hanno eseguito nella capitale la misura cautelare in carcere a carico di una 44enne di origini romene che si era resa irreperibile dal 9 luglio scorso quando gli agenti del commissariato di Civitavecchia avevano eseguito una serie di misure cautelari emesse dal giudice delle indagini preliminari di Roma e su proposta della Procura della Repubblica Capitolina per traffico di sostanze stupefacenti. Dalle indagini partite sulla finire del 2020 a seguito di un sequestro di droga effettuato a Civitavecchia era emerso che la 44enne assieme al compagno il Civitavecchiese BGC di 64 anni sottoposto a sua volta a misura cautelare in carcere il 9 luglio erano nei contatti della banda nella capitale per assicurare l'approvvigionamento dello stupefacente ai corrieri che a bordo di treni lo trasportavano a Civitavecchia nel quartiere di Spinaceto nella tarda serata di ieri gli investigatori sono riusciti a mettere fine alla fuga della donna durante l'ennesimo servizio di appostamento poco dopo le 20 gli agenti sono riusciti ad individuare la donna e dopo un lungo pedinamento appena le condizioni lo hanno reso possibile a bloccarla e trarla in arresto Cambiamo argomento è boom nelle farmacie cittadine che svolgono questo servizio parliamo dei tamponi rapidi in tanti, soprattutto quelli che non hanno ancora il Green Pass hanno deciso di rivolgersi alle farmacie per effettuare il test al costo di 15 euro ed avere così in caso di esito negativo il lasciapassare sanitario la conferma arriva dalla farmacia Spurio che prosegue anche con i vaccini Johnson & Johnson parliamo di Green Pass, di tamponi ma anche di vaccini com'è la situazione per quanto riguarda i vaccini? avete nuove disponibilità? avete tanta gente che vuole fare il vaccino? sì, abbiamo nuove disponibilità la situazione purtroppo è sempre ancora stabile nel senso che ci danno 25 dosi a settimana però sì, c'è molta richiesta e molta disponibilità ancora quindi anche per il Green Pass c'è tanta gente che fa il vaccino? sì, anche per il Green Pass anche se il Green Pass si può ottenere valido per 48 ore con il tampone rapido che facciamo noi ecco, si è parlato proprio per quanto riguarda il tampone di un prezzo sceso a 15 euro qual è la verità? insomma, ci spieghi un po' sì, allora diciamo che l'unico obbligo è non far pagare più di 22 euro un tampone quindi se ve lo fanno pagare 30 euro è una cosa fuori legge Federpharma ha, diciamo, lanciato un'iniziativa a cui bisognava aderire per fare un prezzo di 15 euro e addirittura per i giovani dai 12 ai 17 anni il prezzo è 8 euro quindi noi abbiamo aderito e applichiamo questi prezzi e c'è stato un aumento proprio dei tamponi nella vostra farmacia insomma per avere anche questo Green Pass che è obbligatorio? sì, sì, diciamo che dal 6 agosto da quando è stato reso obbligatorio il Green Pass per fare determinate operazioni c'è stato un netto aumento dei tamponi anche per le cerimonie per fare concorsi statali ma adesso la gente si sta adoperando anche per l'inizio della scuola perché forse chiedono il Green Pass forse non lo chiedono quindi c'è stato anche un aumento di tutto tamponi, vaccini, richieste in generale per il secondo giorno consecutivo a Civitavecchia ci sono più nuovi contagiati che guariti la notizia arriva dal consueto report dell'Asa Roma 4 e della Regione Lazio sono 5 le persone risultate positive mentre risultano solo 2 quelle che hanno sconfitto il virus nelle ultime 24 ore quindi la settimana non è iniziata con il piede giusto per la nostra città una situazione di degrado totale tra topi che scorrazzano nei giardini e tra i giochi dei bambini strade dissestate e tombini divelti è quella che si registra a Campo dell'Oro tra via Emilia Romagna e via Sardegna e che ci è stata segnalata da alcuni abitanti vediamo presenza di topi strade dissestate erbacce giochi per bambini non in sicurezza questa è la situazione di degrado che si registra a Campo dell'Oro tra via Emilia Romagna e via Sardegna e che vi mostriamo in questo video che ci è stato inviato da un nostro telespettatore non è la prima volta che ci arrivano delle segnalazioni dal quartiere periferico su diverse situazioni di degrado che si registrano nel quartiere popolare un segno tangibile che le proteste dei cittadini rimangono spesso inascoltate come si vede dal video che ci è stato inviato la presenza dei topi è ben nota ai residenti della zona tanto che su un portone è stato affisso un cartello nel quale si invita chi transita tra via Emilia Romagna e via Sardegna a chiudere bene la porta per evitare l'ingresso degli indesiderati roditori anche in pieno giorno si può notare la presenza dei topi che indisturbati girano nel giardino e tra i giochi utilizzati dai bambini nello spazio verde antistante i palazzi non solo le immagini ci mostrano la massiccia presenza di erbacce praticamente ovunque che limitano il passaggio dei pedoni come se non bastasse i cittadini lamentano anche l'assenza di sicurezza con tombini che hanno le grate spaccate sono quindi pericolosi giochi per bambini in pessime condizioni la mancanza di sfalcio per le piante che rendono la zona sempre meno sicura anche il manto stradale non è da meno con pericolosi avvallamenti che si sono formati a causa delle radici degli alberi uno scenario da brividi per gli abitanti degli stabili che si sono rivolti sia all'Ater proprietario delle abitazioni di via Emilia Romagna e via Sardegna che al comune non abbiamo ricevuto nessuna risposta affermano i telespettatori Ater e comune si sono rimpallati alla responsabilità siamo molto arrabbiati perché questa situazione va avanti da tempo e nessuno la risolve noi siamo intenzionati ad andare avanti insisteremo con i due enti affinché possano permettere ai bambini e ai loro genitori di poter tornare a frequentare in tranquillità la zona dove ci sono i giochi vediamo alcune immagini di via Rutilio Namaziano una strada che collega via Polodoro e via Leopoli un nostro telespettatore ci ha contattato per segnalare la situazione di incuria che si registra sulla marciapiede della via come si vede dal video che ci è stato inviato che chi si trova a passare deve fare lo slalom tra accumuli di erbacce foglie non raccolte da mesi che creano disagi alle persone e anche a coloro che portano a spasso il cane si tratta di una situazione che va avanti da tempo e che non è mai stata risolta come riconsueto noi giriamo la segnalazione agli organi competenti è in vista una profondita opera di pulizia nella zona del bricchetto l'intervento era stato già programmato nelle settimane scorse dall'ufficio ambiente sulla scorta delle segnalazioni ricevute ma non è stato possibile effettuarlo affermano dalla comune a causa della presenza di alcuni autoveicoli privati i mezzi erano stati lasciati parcheggiati sul posto nonostante le indicazioni di divieto per questo motivo è stata emessa un'ordinanza che prevede dalle 7 di domani fino alle 17 di martedì 31 agosto l'istituzione della disciplina di sosta evitata su entrambi i lati di via del bricchetto con rimozione forzata come già avvenuto in altri settori della città commenta il vice sindaco Manuel Magliani è necessaria la collaborazione dei residenti per quegli interventi manutentivi di cui il verde ha bisogno apriamo la pagina sportiva parlando di calcio a 5 partire ufficialmente l'avventura della nuova squadra la sorta dall'accordo di collaborazione tra la Fuzza e l'Academy e la Civitavecchia ieri sera il gruppo che avrà come colori sociali il nero e l'azzurro si è riunito al campo Ivan Lottatori di Aurelia per il primo allenamento a guidarli mister Simone Tangini che ha preso le redini dopo l'addio obbligato di Umberto Di Maio nei prossimi giorni la società del presidente Elso De Fazzi saprà se sarà ripescata in Serie C1 anche se su questo ci sono molte probabilità che avvenga 22 ragazzi inseriti in questo momento in rosa tra loro c'è anche il nuovo volto Matteo Tiberi che dopo alcuni anni trascorsi in Inghilterra è tornato in Italia ed ha ripreso la sua attività nel Futsal accasandosi proprio ai Nero Azzurri vediamo le interviste Andrea Scorpioni e Elso De Fazzi si inizia l'avventura per quanto riguarda la nuova squadra è nata l'unione tra Futsalacate e MEC per cui si va avanti insieme con questo progetto sì finalmente dopo anni siamo riusciti in questo intento merito nostro mio di Elso ma anche soprattutto del presidente Presutti che è stato subito entusiasta di questa cosa la cosa bella è che abbiamo una squadra super competitiva per la C1 speriamo per la C1 abbiamo chiesto abbiamo fatto domande di prescaggio abbiamo ottime possibilità e potenzieremo anche il settore giovanile del calcio a 5 noi saremo strutturati per il calcio a 5 invece il Civitecchia Calcio farà il calcio a 11 dunque ci siamo divisi i compiti e cercheremo di lavorare nello specifico Presidente quindi è una squadra che spera di poter conquistare questo riscaggio in Serie C1 nel caso dovesse essere così o quali obiettivi vi presenterete al nuovo campionato? Sicuramente l'obiettivo uscirà fuori piano piano il primo obiettivo è quello di fare bene e di vincere ogni settimana poi di fronte avremo anche degli avversari quindi se ci fosse una sconfitta non ne faremo mai un dramma però siamo consapevoli delle nostre forze e sappiamo che non ci dobbiamo porre limiti quindi sicuramente il nostro intento è quello di arrivare nelle prime posizioni per cercare di poi giocarci anche un futuro salto di categoria perché no? Domani pomeriggio il Civitavecchia Calcio conoscerà molto della nuova stagione di eccellenza alle 14.30 con la diretta sui canali social YouTube e Facebook della LN di Lazio verranno presentati i gironi del nuovo campionato 48 le formazioni presenti nella massima divisione regionale che saranno divise in tre gruppi da 16 contestualmente verrà anche stilato il tabellone del primo turno di Coppa Italia verrà sorteggiato chi giocherà in casa visto che anche per la nuova stagione sarà confermato il format in stile FI Cup e Coppa Italia Andrea Romagnoli torna a giocare in Italia dopo aver chiuso l'esperienza lussa con la seconda squadra dello Spartak Mosca il portiere Civitavecchiese classe 98 giocherà in Serie C e difenderà i pali del Catanzaro le Aquile sono state una realtà storica del calcio italiano negli anni 70 e 80 ed ora sono reducita la partecipazione alla Coppa Italia prima esperienza al sud per l'ex Roma che ha giocato anche in Lombardia con il Renate ed in Toscana con la Pistoiese Romagnoli ha firmato un contratto di un anno Palla a mano è un inizio di stagione particolare per la Flavione in vista del campionato di Serie A2 ieri la squadra allenata da Patrizio Pacifico ha svolto le prime sgambate della nuova annata ma in forma individuale il 6 settembre invece sarà ufficialmente il primo giorno di scuola per Bartoli e compagne che si ritroveranno insieme per affaticare ok sono ben 5 le sniperine convocate dal coach Mirko Ceschini per il primo raduno della nazionale senior femminile che si è svolto in vista dei mondiali di Roccaraso si tratta di Mara Faravelli Laura Giannini Eugenia Pompanin Eleonora Raia e Dagnese Tartaglione complimenti alle ragazze afferma il presidente della CV Skating Riccardo Valentini si tratta di tutte atlete serie meritevoli e che da anni portano avanti i colori della CV Skating con orgoglio è sempre un onore avere i nostri tesserati che indossano i colori azzurri e passiamo ad una segnalazione che ci arriva dalla parte bassa di via Chile Montanucci tra i vari rifiuti è spuntato un materasso abbandonato dai soliti incivili tra la strada ed il marciapiede un rifiuto ingombrante che andrebbe smaltire diversamente portandolo all'isola ecologica oppure sfruttando la possibilità gratuitamente tre volte all'anno di chiamare CSP per venire a ritirarlo a casa una comodità che però sembra non fermare i tanti troppi cittadini che si rendono protagonisti di gesti incivili contro ogni senso logico ci segnalano però che il materasso è stato tolto e portato via proprio nel pomeriggio di oggi a Viale Matteotti tutto è pronto per una serata danzante ci piacerebbe dirlo ma in realtà ci stiamo riferendo all'ennesima segnalazione di inciviltà che ci arriva dai nostri telespettatori come si vede nella foto che ci è stata inviata nella centralissima Viale Matteotti alcuni incivini hanno lasciato a terra nei pressi di uno dei contenitori dove si possono gettare le deiezioni degli animali alcune casse utilizzate per l'ascolto della musica si tratta dell'ennesimo episodio di inciviltà che ci viene segnalato e rimanendo in tema possiamo dire che la musica non cambia bene era questa l'ultima notizia di questa edizione del nostro telegiornale prima di lasciarvi vi ricordo di seguirci anche sui nostri canali social facebook, youtube, instagram oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata